Ciao, tesori, ciao, venivo tanti amici tra noi, l'amirigliani, tanta gente, che bei momenti, ecco un uomo, è l'ideologia. Posso dire una cosa? Sono stata con Camarieri in Africa, anche io ci sono andata, siamo stati nel Mali, ci hanno fatto un'accoglienza, Fabrizio, appena siamo atterrati e sono proprio venuta proprio lì nel Mali, ci hanno detto, ma la benvenuta nel Mali, di tutti i Mali ci mancavi solo te, ci sono rimasta tanto male, beh, che gliela sia. Grazie, grazie, e vedo che con te c'è anche Valeria Marini, ciao Valeria! Buonasera a tutti, sono molto contenta di essere qua questa sera, veramente in questa sala Monopoli, perché veramente è molto bella questa sala. No, no, è auditorium. Veramente, mi piace molto questo auditorium e tante cose questa sera, però devo dire che voglio salutare, posso cogliere l'opportunità per salutare tutti i registi che sono presenti qua, e proprio tutti i registi che hanno creduto in me, da Moccia, Muccino e Moccio Mileda, grazie veramente a tutti di cuore. E soprattutto a voi. 좀 ruotando, eh? Non Iboccio Mileda non me li prendo mai. Senti Valeria, eh, scusa Valeria, salutiamo, eh! Sta arrivando Sofia Loren! Sofia, Sofia! Fabrizio che bella gente, che bella, che bella l'Italia, che bella è bello, bello, scusa perché qua mi si stacca tutto io volevo salutarvi con molta embasi stasera Fabrizio ma il chirurgo plastico me l'ha vietato mi ha detto Sofia sti attenta a come alza i bracci per salutare il pubblico perché come alza i bracci poi gli si è cavata le gambe e poi come ha cavata le gambe poi gli scende la cataratta mi ha detto ma tanto il pubblico lo sai che mi voglio bene che bella, che bella gente, che bella e poi ho finito, è già finito, è già finito è già finita, grazie Sofia ci sono due noti esponenti politici che vogliono salutare e fare gli auguri uno è Beppe Grillo, vero? no, però comico adesso è una cosa pazzesca ragazzi, è una cosa pazzesca ragazzi che bello vedervi vado qua ragazzi perché devo dire una cosa visto ci sono molti cantanti dietro le quinte avete visto? c'è anche già la Rannini, anche già la Rannini ragazzi avete visto adesso è diventata mamma oh papà non ci ho capito niente cosa è diventata ragazzi la cosa pazzesca lasciamo prendere se la vi prevedono questo è un po' un Peppe Grillo in vecchia maniera quando torno a fare gli spettacoli invece so che c'è anche c'è anche il premier il premier Renzi, è vero? sì il Bezzettino era lui che è stato notito cioè io penso che comunque cioè io penso che la politica cioè è una cosa io penso che abbasseremo le tasse anche perché non ho parlato con più niente però ha detto bravo abbassare che se no se sono troppo alti non ci arrivo grazie premier e poi c'è Antonella Clenice che con Anna Moroni ci vuole fare gli auguri ciao a tutti i bambini ciao ciao fanno male le scarpe fanno male Fabrizio Fabrizio hai visto che c'è Anna Moroni che è venuta a trovarci eh l'ho vista la possiamo chiamare chiamala Antonella chiamala Annina tesoro tesoro gira gira questa tecca la pesce bella tesoro gira tesoro guarda che gira tesoro voi si che sarò bravo aaaah gira tesoro peccanuccio Fabrizio vedi troppo bravo no ma che cucinata Fabrizio gira tesoro tecca la pesce bella tesoro ma come? Senti ma adesso so che c'è una Sabrina Ferilli che è diventata conduttrice eh Sabrina complimenti eh sei un artigiano della qualità l'artigiano vero Fabrizio io non so nient'altro che dire se siete tutti artigiani della qualità artigiani veri grazie e poi ci abbiamo due cantanti storici una è Orietta Berti Orietta Orietta come stai Orietta? no Orietta Mosvaldo tu sei quello che si incontra una volta e mai più Mosvaldo l'ho capito quando ho mai guardato tu per un attimo Mosvaldo ho avuto i tortellini carino e poi ci andano e poi ci andano e poi ci andano e no 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 felicità e temi la rumina chiusa in cantina la felicità e il suo sguardo innocente in mezzo alla gente la felicità e cantare a due voci quanto mi piace la felicità 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 e tenersi per mano se no casca al mano la felicità e tenersi per mano se no casca al mano è una meravigliosa mi sembra andare su artigiani della qualità guarda come suona bene sta cosa sopprima senti Sabina dobbiamo dare la parola a Millie Carlucci che deve chiudere questo nostro momento insieme perché te lo sei amministrati il tempo giusto? lì c'è stato tanti artigiani della qualità proprio per me e sì 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 buonasera buonasera a tutti è primaverso questa serata quando con le stelle abbiamo Fabrizio Finzi e il mio amico Fabrizio Finzi scelipista ecco è un stupendo un grande applauso Fabrizio Finzi che vedete 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 adesso tornerà sul piaccio adesso sul piaccio e sì perché vedete 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 sì 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 ecco è un momento particolare chiederemo insieme di cinere pista che devo lasciare in te il nostro palco per vedere chi passare il turno oppure ovviamente non mi chiedere cosa hai detto però una frase la devi dire per chiudere vai sì uno di te stop mi tenuto ecco immaginato brava brava posso notare la nostra giuria vai vai posso notare la nostra giuria la nostra giuria che il serea è composto di il serea è fabio canino molare e incisimo ecco sì 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 e poi e poi adesso adesso ho detto adesso allora uno stupendo presentatore un amico eccezionale che ho in te mi sta accanto Dona Rita nella parola di Nilli e poi anche di Manuela Aureli perché è un caro amico Fabrizio Frizzi è stupendo è stupendo Fabrizio grazie di voi grazie auguri auguri per l'anno che stiamo pieno di ogni bene per te e stellina per tutta la maniera e per voi sempre di Manuela quando grazie grazie di voi grazie di voi grazie di voi saluto i venuncii che mi dà ogni anno questo è bello porto i dali a selezioni per una cosa bella giusta che ci vieni il cuore grazie grazie a tutti ciao benissimo ciao saluto a Fernando Cametti che è il mio benissimo saluto ma lo ripetiamo il saluto grazie ciao